Aumentano i casi di coronavirus in Italia e, di conseguenza, si integrano e modificano le norme di profilassi di cui tener conto. Tra queste c'è l'evitare di frequentare luoghi pubblici, tra cui non ci sono solo bar, supermercati ed uffici, ma anche le università. Dato il suo carattere di Ateneo a livello nazionale, l'Università Telematica Pegaso ha inteso rinviare per questa settimana tutti gli esami in programma, dandone apposita comunicazione sia via email ai singoli discenti, sia con un avviso sulla propria pagina web. Sul sito dell'Ateneo, infatti, si può leggere che, letteralmente, sebbene al momento non si riscontri nessun tipo di problema all'interno delle nostre sedi di esame, l'Università ritiene utile e opportuno rinviare gli esami previsti nella prossima settimana, cioè quella appena iniziata, e monitorare con molta attenzione quello che sta accadendo con i casi accertati di coronavirus. Il nostro numero verde è a vostra disposizione, come i referenti delle sedi di esame in questione e i nostri centri di orientamento. Sarà nostra cura riprogrammare gli esami previsti appena le autorità competenti saranno in condizione di garantire maggiore serenità. Dunque, l'Università Telematica Pegaso rinvia per questa settimana esami e sedute di laurea, posticipandone la relativa programmazione a data da definire. La decisione riguarda, ovviamente, anche la sede Pegaso di Avellino in via dei due principati 143, dove tutti gli esami, inizialmente previsti dal 24 al 28 febbraio, sono rinviati. Per ogni tipo di informazione e merito è possibile contattare la sede Pegaso di Avellino ai numeri 0825 73 84 2 e 329 74 90 729, quest'ultimo disponibile anche via WhatsApp, oppure scrivere un'email a infosedeavellinochiocciolaunipegaso.it